I principali, il braccio oscillante, le capsule che reagiscono alla pressione atmosferica e un tamburo rotante. Per creare il coperchio del tamburo, un addetto alla pressa ricava un disco di 9 cm da una lunga striscia d'ottone. Pulisce il disco dai residui di grasso lasciati dalla pressa e lo colloca su un'altra pressa per formare un bordo. Per creare il tamburo, taglia un cilindro lungo 10 cm da un tubo d'ottone. Poi posiziona il tamburo su un supporto che ruota ad alta velocità. Leviga la superficie dell'ottone usando della lana d'acciaio. Grazie a un pratico dispositivo di rotazione, i tamburi vengono ricoperti da uno strato di lacca protettiva, in modo che l'ottone non si corroda. Il meccanismo del barografo poggia su una lastra d'ottone massiccio lunga a 214 mm e larga a 125 mm. Un addetto le lubrifica una alla volta e le colloca su una pressa che pratica i fori per le viti d'assemblaggio. Poi pone la lastra in un supporto metallico e la lucida con una spazzola rotante. Applica della cera sulla spazzola per ottenere una finitura a specchio. Gli addetti usano una carta abrasiva a grana fine per lucidare i bracci d'ottone massiccio che terranno ferme le parti funzionali. Poi li allineano su una tavola e li lucidano con una spazzola levigante. Come riescono a rendere i pezzi tanto lucidi? Lavando il grasso dei macchinari prima di lucidarli. Montare un barografo è un lavoro di precisione. Davanti all'assemblatrice ci sono tutte le parti di cui avrà bisogno. Si inizia con un braccio, si inserisce una vite d'ottone, si posiziona un secondo braccio e si fissa il tutto alla base. Queste capsule di metallo sono la chiave del meccanismo. In base alla pressione dell'aria si abbassano e si alzano. Il barografo registra questi movimenti per misurare l'alta e la bassa pressione. Il gruppo di capsule viene collocato sulla base. Il sistema di leve è collegato al braccio, in modo che, sollevandolo e abbassandolo, il pennarello sulla punta possa registrare il pennarello sulla carta del tamburo rotante. L'assemblatrice inserisce dei piccoli perni per tenerli insieme. La batteria conferisce un ritmo costante alla rotazione. Ora, avvolge la carta attorno al tamburo e ricollega un gancetto d'ottone per tenerla a ferma. La batteria conferisce un ritmo costante alla rotazione. La batteria conferisce un ritmo costante alla rotazione in sette giorni. Ruota così lentamente che il movimento... ...lo fa ruotare sull'asse. Una vite d'ottone... ...lo avvita e lo copre con un alloggiamento in vetro e mogano. Delle cerniere... ...facile apertura. Un addetto al controllo qualità introduce il barografo in una camera pressurizzata per verificarne la precisità. Confronta le registrazioni del barografo con quelle degli strumenti esterni che misura le variazioni di pressione all'interno della camera. Questo grafico settimanale mostra le registrazioni ora per ora delle variazioni di pressione dell'aria espresse netto pascal, un'unità di misura della pressione atmosferica. Esistono vari tipi di barografo, dai modelli più moderni a quelli più tradizionali in ottone e mogano, che ogni marinaio sarebbe fiero di possedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.